Capelli crespi, non vi preoccupate, c'è chi è messo peggio di voi, la pinella. Con una bella dose di autoironia, Alessia Marcuzzi saluta i suoi numerosi fan su Instagram e oltre a scherzare sul look vagamente boimien dell'acconciatura, si presenta ai followers senza un velo di trucco, come se si fosse appena svegliata. Non che si trucchi molto Alessia, neanche quando va in onda, solo che completamente al naturale non siamo poi così abituati a vederla. Il pubblico del social network fotografico, infatti, si divide tra coloro che la apprezzano acqua e sapone e chi invece pensa stia meglio con rossetto e mascara. È bellissima, scrive una sua ammiratrice, ed il fatto che si voglia mostrare così anche senza trucco e parrucco la rende ancora più umana, contrariamente a tante altre vite. D'altro canto, però, non mancano i commenti più maligni come questo. Anche senza trucco non sei per niente bella. La pinella non ha mai temuto il giudizio del suo pubblico, ma quando, anche nel recente passato, è stata criticata per il bacio con Paolo Calabresi Marconi postato su Instagram ed è stata anche attaccata per le sue scelte sentimentali, ha dovuto rispondere a tono difendendo la sua famiglia. Al di là delle polemiche, a voi piace il nude look di Alessia o siete tra coloro che la preferiscono truccata.